in via grandi a rosciano da tempo hanno a che fare con le bizze della rete elettrica pubblica che in tempi e in modi diversi e perdurate variabili che vanno dalla mezz'ora fino anche alle due ore lascia al buio le utenze domestiche il guasto dispettoso non conosce orari o giorni della settimana anche la frequenza varia alle volte più frequentemente altre volte magari passano anche diversi mesi prima che si ripresenti nuovamente il guasto o di giorno la mattina la sera o anche di notte come è accaduto l'altro giorno i residenti della via dopo puntuali e numerose segnalazioni sono tra il rassegnato e il deluso dato che sì le squadre dell'enel si sono viste e hanno armeggiato nella cabina poco distante dalla via ma pare che le cose non si siano risolte perché l'altra sera il problema si è ripresentato anche se dopo tanto tempo e quindi quest'anno è una quindicina di giorni che ogni due giorni manca la corrente giorno e notte giorno e notte sì sì quindi elettrodomestici frigoriferi tutto in tilt oggi è andata via sti giorni stanotte stanotte più o meno a che ora dalle 11 dopo non ho visto che fino a che ora per quanto è durato sarà durato tre quattro ore senz'altro insomma quindi chiedete che presto venga che non avvenga più sta cosa non è giusto che avvenga sempre così non è giusto come le altre volte la squadra di pronto intervento l'altra notte è intervenuta e ha ridato corrente alla zona ed ha eseguito anche le dovute verifiche alla ricerca del guasto dispettoso con grandi probabilità forse dopo diversi tentativi il segmento della linea interrata dove c'è con molta probabilità un danno al cavo è stato individuato e di conseguenza i tecnici lo hanno isolato ma le buone notizie per i residenti della zona non sono finite perché ene ha intanto fatto arrivare energia da un'altra linea per alimentare la zona e non lasciare quindi più al buio le case se il guasto non si dovesse ripresentare quindi vuol dire che il colpevole è stato individuato e quindi si potrà procedere alla sostituzione del pezzo ammalorato e niente più quindi cene a lume di candela a meno che non sia per san valentino